Detenevano a casa oltre 130 kg di marijuana e 200 g di cocaina. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Giarre hanno arrestato Cateno Mancuso, 37enne di riposto e una 66enne di riposto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi militari, a conclusione di un'attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione e nel garage dell'uomo, rinvenendo e sequestrando diversi involucri contenenti, in complesso 91 kg di marijuana, delle buste di cellofan contenenti complessivamente 200 g di cocaina, la somma in contante di 4.365 euro, ritenuta a provento dello spaccio, tre bilance elettroniche e un ingente materiale utilizzato per il confezionamento della droga. In seguito i carabinieri hanno operato una perquisizione domiciliare nell'abitazione della donna, rinvenendo 46 kg di marijuana, che è stata sequestrata. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza a Catania come disposto dall'autorità giudiziaria.